Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, in visita alla 62esima Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Una fiera che continua a crescere, faccio i miei complimenti alla Presidente, la sua prima edizione, il salto di qualità che si era già registrato negli scorsi anni si sta consolidando, il lavoro che ha fatto la Regione per sostenere questa fiera è stato anche un lavoro teso al recupero, edilizio di capannoni che erano ormai in una condizione di difficile gestione per poter ospitare una fiera del livello che merita la Fiera dell'Agricoltura di Lanciano. Io sono da questo punto di vista qui a rinnovare l'impegno della Regione perché questa manifestazione e in generale il polo fieristico di Lanciano possano conoscere una stagione di continua crescita e di sviluppo come merita l'Abruzzo perché questa fiera è una fiera che non ha una dimensione semplicemente regionale, una fiera che parla a un mondo molto più ampio, a un'area geografica molto più ampia di operatori del settore che coinvolge la società in maniera più ampia. Vediamo adesso i bambini delle scuole portati qui per fare educazione alimentare, educazione e avvicinamento ai temi dell'agricoltura, del mangiare e del vivere sano. Quello che serve al nostro territorio e faccio appunto i miei complimenti a Ombretta Mercurio, alla Presidente della Fiera, per il buon lavoro svolto. L'agricoltura resta un settore trainante della Regione? Naturalmente siamo impegnati per un rilancio strutturale di questo settore. Nell'accordo di coesione firmato con la Presidente Meloni abbiamo inserito, cosa che non avviene solitamente, fondi per l'agricoltura e li abbiamo inseriti anche in maniera consistente. Più del 10%, intorno al 15% dei fondi previsti dalla coesione sono stati impegnati per l'agricoltura e in particolare per gli impianti di irrigazione nei consorsi di bonifica, per gli invasi e per le attività di depurazione. Garantire un ciclo idrico efficiente è la base di un'agricoltura sostenibile e sana, tanto più in tempi di cambiamenti climatici. Per quanto riguarda la Giunta regionale? Nei prossimi giorni stiamo ancora attendendo la programmazione ufficiale degli eletti. Calerato Pasqua? Penso inevitabilmente, io comunque attendo dal Tribunale notizie quando ci sarà la formalizzazione degli eletti e potremmo anche formalizzare il resto. Sarebbe curioso nominare la Giunta prima di avere la programmazione del Presidente e degli eletti. Settimana di passione? No, una settimana tranquilla di riflessione e auguro a tutti anzi una buona e santa Pasqua, così lontana e libera dalle polemiche elettorali. Hai fermato a fare delle pizzelle, com'è andata? Magnificamente, quando mia madre faceva le pizzelle a casa era il giorno di festa settimanale, perché più o meno ogni settimana si dedicava a riempire un bel canestro di pizzelle, non facevamo a tempo a farle finire di cuocere, perché mangiate calde aveva sempre un gusto particolare. Grazie Presidente.